salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta in casa di Dario oggi facciamo delle mezze maniche con questi ingredienti 180 grammi circa di mezze maniche 150 grammi di fagiolini tagliati a pezzettini 150 di formaggio spalmabile una cinquantina di grammi di formaggio grattugiato grana o parmigiano 30 grammi di scalogno una decina di foglioline di basilico mezzo bicchiere di vino bianco sale pepe olio e il nostro magic cooker procediamo mettiamo nella padella lo scalogno direttamente i fagiolini e naturalmente dell'olio pizzichino di sale fiamma al massimo copriamo con magic cooker e facciamo partire due minuti di tempo primi due minuti passati scopro aggiungo il vino bianco ricopro subito col magic cooker e proseguo così ancora per due minuti ulteriori due minuti passati allora scopriamo ancora aggiungiamo dell'acqua 200 300 ml basiamo un pochino la fiamma copriamo con magic cooker e facciamo partire cinque minuti di tempo che così i fagiolini continuano all'essarsi ecco qua cinque minuti passati allora basso un attimo scopro allora qui ho predisposto dell'acqua calda per cuocere la pasta dopo dove ho messo a bagno le fogliorine di basilico ripasso un attimo in acqua fredda ed aggiungo qui insieme al formaggio spalmabile poi togliamo la padella qui dal fornello e qui dentro mettiamo anche questi fagiolini qualcuno lo lasciamo rimettiamo qui sul fuoco siamo la fiamma aggiungiamo la pasta del sale e copriamo con acqua tiepida copriamo con magic cooker e facciamo partire sei minuti di tempo allora invece qui ecco qua un po di sale aggiungiamo il formaggio grattugiato dell'olio macinata di pepe un pochino di acqua tiepida e frulliamo il tutto ecco fatto lo teniamo da parte e aspettiamo che il tempo passi eccoci qua sei minuti passati allora scopro aggiungo il composto frullato una girata basso un pochino la fiamma ricopro con nostro magic cooker e proseguo la cottura per quattro minuti passati allora controlliamo direi proprio che ci siamo ricopro con magic cooker spengo la fiamma mi sposto qui sul tavolo e come al solito lascio riposare il tutto per un minuto tempo scaduto allora scopro eccoli qua sta raffreddando e rapprendendo quindi una spolverata di formaggio grattugiato ecco qua ancora un po di formaggio grattugiato ottenuto due foglioline qui per guarnizione se volete una macinata di pepe ed ecco pronta la mia idea di primo piatto di oggi di queste mezze maniche con formaggio spalmabile e fagiolini preparato sempre in poco tempo con il medio di cottura magic cooker grazie a tutti per avermi seguito ci vediamo alla prossima ricetta non mancate ciao ciao